Ho comprato un libro delle barzellette, ci tenevo a farvi sentire alcune di loro. Una famiglia è stata trovata a mezza morta di fame e di sede fuori da un cinema. A quanto pare voleva vedere il film, chiuso per istrutturazione. A momenti ci scampava il morto, poi per fortuna l'abbiamo ripreso e il funerale è andato benissimo. Cosa succede a Trento se c'è Bento? Diventa 50. Tenetevi forte. Una candela non si ferma ad un incrocio e fa un incidente con un'altra candela. Ovvio, no? La seconda candela esce dalla macchina e grida, ma non hai visto lo stoppino. In carcere. Devo andarmene da qui. Se stai pensando alla fuga, io avrei un piano. Ma sei scemo? Ti pare il momento di suonare? Ma se Pitagora va in barca, teorema. Sono già le 10 e 15 e quindi... Cì. Ho un divano letto e uno ancora da leggere. Mani in alto, dacci i soldi o spariamo. I soldi non ve li do, sparite pure. Ho comprato un boomerang nuovo, ma non riesco a buttare via quello vecchio. La dichiaro in arresto. Ma ce l'hai mandato di cottura? Ragazzi, adesso io non voglio... Però 9,90 euro, no? 9,90 euro, no? Che c'avevi quando l'hai scritto? Non hai dormito la notte? Che c'e ve! Che c'e ve!